E ciao a tutti i zunzumini miei, io sono la vostra Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video zun 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 Allora, come promesso, come promesso, io vi farò vedere qui dentro tutte le calamite che ho Ovviamente ho smesso già da un po' di tempo di collezionarle, quindi queste sono diventate fra virgolette dei miei Che ce le hanno tutte sul frigorifero, io le ho messe in questa scatola, ora le vediamo insieme Però prima mi invito ad iscrivervi al mio canale Gilda Fashion su Youtube e a seguirmi su TikTok Gilda Fashion 94 Se volete farmi una donazione vi lascio in info box le informazioni necessarie per poterla fare Scondividete i miei video con amici e parenti per ritornarmi a crescere un po' di più Spolliciate, mi raccomando, prima arriviamo a 2.000 iscritti, prima porterò sul canale un video ancora più speciale Detto questo, se volete farvi due risate in più, iscrivetevi anche al canale di Crudocotto e Mangiato con Romolo su Youtube E seguitelo su TikTok Crudocotto e Mangiato 72 Un bacione enorme per te amore mio Oggi, diciamo, e ieri e comunque in questi giorni sto facendo più video Perché, diciamo, da domani credo che dovrei riprendere e lavorare Appunto per quel lavoro che sto facendo io artigianale Però i video li farò sempre più video al giorno Però avrete notato che tipo, avanti ieri penso di aver fatto tipo 5 video Vabbè, ieri ne ho fatti due, oggi ne voglio fare tre Però, dico così, quando io lavoro magari ne faccio uno in meno, due in meno Quando magari sono più libera ne faccio di più Ci tenevo anche a specificare un'altra cosa di un zoom in i miei Se vedete che io ho fatto i saluti soltanto nel video Mac Bang Quello della mozzarella ripiena È perché io adesso questi video qui li sto registrando prima Perché poi ho un sacco di cose da fare Quindi oggi sta capitando così Che li sto registrando prima gli altri due Perché oggi ne voglio fare almeno tre in tutto Quindi se vedete che io non saluterò Né in questo video né nell'altro video State tranquilli che i saluti poi ve li segno tutti E nel video, nel primo video di domani mattina Pranzo, mattina, quello che è Io saluterò tutti quelli che mi hanno lasciato i commenti A partire da prima dell'uscita di questo video qui A domani Domani mattina, non so, siete 20 persone, 30 persone Vi saluto tutti, tranquilli Detto questo, procediamo Adoro Top Faccio un po' più avanti Allora, e apriamo lo scatolone fabbricone Allora Guardate Sicuramente c'è gente che ne ha molte di più di me Però Voglio vedere insieme a voi Voglio ricordarmi le calamite che ho Allora, intanto questa qui Non mi ricordo ovviamente tutti i posti Di dove le ho prese Anche perché sinceramente non è che sono state in tutti questi luoghi La maggior parte mi sono state regalate Dico la verità Questo qui non mi ricordo dove l'ho preso E' molto carino Guardate Il campino con la testa a molla E' bellissimo Poi vado veloce perché sennò non finiamo più Poi questa qui Pompei Il vaso Ecco Questo bellissimo topolino Col formaggio Ecco Fatevi sapere poi La fine di questo video Quando l'avete visto tutto Fatemi sapere qual è fra queste calamite Vi è piaciute di più Le prendo casualmente Qui dove era O procida O rimini Non mi ricordo Occhiali Poi abbiamo Poi abbiamo Otranto Questa qui Ecco Poi ho questa qui Ischia Questa qui Poi c'è questa qui Matera Uff si è un po' scheggiata Ecco Il polpo Credo che l'ho preso da San Marino No, no San Marino Da Rimini Ecco Questa coccinella La devo un po' spolverare Questa coccinella Ecco Lecce Ecco Un po' più avanti Ancora Oddio Pure questo L'arcobaleno Dove poi c'è scritto Andrà tutto bene Mi ricordo Durante la prima ondata Del covid Andrà tutto bene Poi Bologna Dicono che è la città Più pericolosa Di notte Voi cosa ne pensate? E' vero questa cosa? Fatelo sapere giù Nei commenti Il Duomo di Milano Io adoro Milano Adoro Milano Come adoro Roma Sono le mie città preferite Milano e Roma Dovrei andarci Dovrei andarci Quest'estate Non lo so O voglio andare a Milano Ma sai che dico io? Roma Milano L'importante E' venire da Temori Poi Non mi interessa a me Di andare a Milano A Roma Sì ci può stare Ma la cosa più importante E' stare con Temori A Bricello Città e paese Quando si sta con la persona Che si ama Certo ci sta la vacanza Che può essere Roma Può essere Milano Può essere fuori Può essere più giù Può essere più su E su E su E giù E giù Bene Allora può essere su Può essere giù Però l'importante è stare insieme Amore mio Albero bello Ecco Vedete lo faccio vedere meglio Io preferisco andare dal mio amore Poi Il resto Se c'è c'è Venezia Non faccio programmi L'unica cosa è certa Che voglio andare dal mio amore Fine luglio Io voglio andare dal mio amore Amalfi Eccola qui Ecco Poi ho Montesilvano L'unica cosa è la vita Che non la prendevo Vietri sul mare Ecco Genova Genova Primo estratto No scherzo Ecco Poi San Pietro In Bevagna Eccola qui Poi Tivoli Ah ok Tutte le cose Fontana dei Draghi La Rometta Occhio qui Ecco Questa qui Ecco Poi abbiamo Ostuni Ecco Poi abbiamo Bruxelles Bello Ecco Poi Abbiamo Pietrelcina Ecco Poi abbiamo Isola d'Elba Ecco Ecco Questa qui Degli Angioletti Rimini 2014 C'è scritto dietro Ecco Paris Lo dico Con l'accento Francaise Paris Degli Angioletti Paris Ci so fare Per il francese Assurdo Dicono che più faccio Nell'inglese Eppure riesco più Nel francese Voi 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 in quale lingua Vi trovate meglio Fatemelo sapere Nei commenti E quelle che alla mente Vi è piaciuta di più Fra questa Fatemelo sapere Nei commenti Roma Poi Singapore 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 Se Non ci credo neanche io Che ci potevo essere andata Beh Può essere che un giorno andrò Roma Fontana di Trevi Voi certo Riprodotta poi nei minimi dettagli Bellissima Poi c'è questo gufetto Roseto Ok Va bene Udine Ok Udine Sì Perché Vi devo raccontare questa storia Assolutamente Allora Voi sapete Che Tanti anni fa Qualche anno fa Beh Se non passare il tempo Passa in fretta E tu non passi mai No Volevo dire che E intanto il tempo Passa E passerà Come sai Tu In bilico E intanto Il tempo Passa E tu non passi mai Nascondo Questa Stupida Allegria Quando mi guardi Non senti Che Tremo Mentre Ok Basta Allora In poche parole Io vi devo raccontare questa cosa Perché sono stata utile Perché A parte che da quelle parti Comunque vivono i miei zii E vi saluto Bacioni fashion Mi voglio bene Ma Io perché sono stata utile Perché qualche anno fa Io sono particolare come persona Ma l'avrete capito Siccome Qualche anno fa Uscì Un film Comunque Rai Al cinema Che si chiamava Un bacio Un film Un film che però Dico la verità Mi dispiace Che non ha fatto tanto successo Ero uscito un libro Ma dopo A distanza di qualche anno Pure in ritardo Credo Il film di chi era Diva Cattaneo Non mi ricordo E un film Che però Non ha fatto Non ha riscosso Tanto successo Secondo me Meritava Perché aveva una bella morale Non voglio spoilerare nulla Solo che Siccome avevo notato Anche tramite Diciamo Il video ufficiale Di Mika La canzone Come che si chiamava Quella canzone Hearts Na 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 Quella canzone là Era Hearts Sì Ma cosa del genere Praticamente Io ho detto No no Mika Che è americana In inglese C'è lo sa Praticamente E è andato Fino a Udine Insomma Mi ero innamorata Di quel film Della storia di quel film E siccome Udine Diciamo Si può raggiungere Facilmente col treno Io mi ero fissata Che volevo andare Sul set Di dove erano state Registrate Con le scede Di quel film Sono stata Con mio cugino Ti saluto Saluto tutti i miei cugini Da mia famiglia Vi voglio bene Baci Fashion E sono stata Con mio cugino Vado a quanto a pazienza Oddio E siamo andati a Udine Posta a posta Col treno Su lì potete fare Una cosa del genere Mi sono fatta filmare Del mio cugino Tutte le cose Io mi sono portata Da Cassi Fiori Finiti Ho fatto il balletto Vicino a dove è stata Registrata La scena della scuola Vado Voi non potete capire Che cosa ho fatto Mi sono messo Allo sbaltorire Mi sono portato Le cuffie a gialle Voi non avete idea Di quello che ho fatto Mi sono portata La giacca argentata Vabbè Volevo cercare persino Le Nike Quelle con le ali Vabbè Lasciamo perdere Se lì poto fare Una cosa del genere Volevo Il priscio mio Quando mi innamoro Fra virgolette Di un film Ovviamente Non è un film Che deve essere Stato girato a New York Se è tipo un film Che mi è piaciuto tantissimo In particolare Una scena particolare In un determinato luogo Io sono capace Che prendo il treno Vabbè Ora no Sono fidanzata Vabbè tranquilla Amore Vengo solo da te Col treno E lo so che tu Allora Poi devo anche Sfatare un'altra cosa Che non mi è piaciuta Quella che avete detto Nei suoi confronti Ve la dico dopo Io sono capace Che prendevo il treno Andavo in quella città In quell'esatta via In quell'esatto luogo E mi facevo le foto E i video In quella In quella zona lì Vabbè Mi dispiace Che questo film Non ha riscosso tanto successo Non l'avesse visto Volete vederlo Il film si chiama Un bacio E un film Rai Lo potete trovare Anche credo Anche sul sito Della Rai Comunque Fate l'accesso gratuito Ma si trova anche Su qualunque sito Internet Streaming Non voglio spoilerare nulla E vedetelo Perché merita Volevo sfatare una cosa Molte persone Non la mia family Però quelli che Diciamo Ci vogliono male Ecco Diciamo così Ma anche sfottò Per sfottere Dicono Eh ma sempre lei Va a trovare lui Ma la dignità Lui dove ce l'ha Allora Prima cosa Vi tolgo questa cosa Così non potete dire più niente Molte volte Lui si è offerto Di venire a trovarmi Sono io Che gli ho detto di no Per un semplice motivo Perché siccome Ci sono rimasti malissimo Della mia vecchia storia Di come è andata a finire Dopo sei mesi Giustamente Mia madre ha detto Vediamo almeno Se questa storia Dura almeno un anno E poi fallo venire Tutto qui Ma lui più volte Mi ha detto Voglio venire Voglio venire Quindi Voi non sapete le cose Non parlate Andiamo avanti Rimini Ecco Questa è una pizza Che non so Dove è stata fatta Poi abbiamo Porto Cesario Parla in fretta E non pensare Se quel che dici Può far male Tanto poi Tu lo sai Riuscirei Sempre a convincermi Che Tutto Scorre Usami Straziami Straziami Straffami L'anima Ok Perché non lo sapessi Di Gramaro Quando ero piccola Ero fissata Era nel mio gruppo Prefetto Io andavo ancora Non mi ricordo Alle medie andavo Mi sono piaciuti Per sei anni Sì Mi piaceva un sacco Va bene Comunque Questa è Porto Cesario Io adoro tantissimo I suoi solfetti Per chi non l'avesse capito Il solfetto è quello Che so fare meglio Sono portata per la lirica Sono portata per fare Tipo le note Quelle La Quelle note lì Col solfetto Mi piace un sacco Farle Un giorno Mi farò una canzone A cappella In cui Vi farò vedere I solfetti Poi c'è questa qui Paris La Cité de l'amour Anche se non ci credo L'amore ovunque L'amore nell'aria E' l'amore Ok Poi c'è Salerno Va bene C'è di meglio Comunque E poi ci sono questi Questi angioletti qua Va bene Io ho finito Spero che questo video Voi l'avviate gradito Ovviamente Come avete visto Io trovo sempre un modo Simpatico e innovativo Per mostrarvi qualcosa Che io Perché fare solo così Con le calamite Mi sareste annoiati Invece così Sì C'è chi piace Però Volevo unire l'utile Al direttevole E farvi anche Intrattenervi Perché il mio scopo Alla fine è Intrattenervi Se questo video vi è piaciuto Seguitemi su Youtube Gilda Fashion E seguitemi anche su TikTok Gilda Fashion 94 Seguiti anche Romolo Del canale Prudocotti e Mangiato Su Youtube E seguitelo anche su TikTok Prudocotti e Mangiato 72 Spoliciate Condividete Fatemi una piccola donazione Se volete Ma potete anche non farlo Non è un problema Vi lascio il link Vi lascio le informazioni necessarie In info box Prima arriviamo a 2.000 iscritti Mi raccomando quindi iscrivetevi Spoliciate E prima porterò sul canale Un video ancora più speciale Detto questo Un abbraccio immenso Ci vediamo nel terzo E forse ultimo video Non lo so Come minimo ci sarà un terzo In cui vi mostrerò Una bella chicca Un bacio speciale A mio grande amore E un bacione Dalla vostra Gilda Fashion Adoro Top Ricordatelo Maledetto telecomandino E un bacio speciale